Questa mattina sono iniziati i rilievi tecnici e l'avvio del cantiere per la realizzazione della rotatoria nel quartiere turco di Battipaglia. Di buon'ora, prendendo le misure, è stata disegnata sul cemento la bozza della rotatoria, con tanto di verifiche anche per la distanza dal marciapiede, ed una segnaletica provvisoria. Intanto, in disaccordo sull'opera, è stato presentato un ricorso al Presidente della Repubblica dalla famiglia Santese per chiarire che la rotatoria nel quartiere turco andrebbe a creare non pochi problemi sul fronte della viabilità. Tutto questo, casualmente, accade all'indomani dell'appello lanciato dall'imprenditore Renato Santese. Infatti, su quel tratto di strada si immettono anche camion e si potrebbero creare ingurghi ulteriori. Stesso discorso per la rotatoria nei pressi dell'hotel commercio, che sta creando notevoli disservizi. Più utile alla sicurezza per evitare incidenti seri, poteva essere una rotatoria realizzata 200 metri prima all'incrocio con via Cupafilette.